Ieri ad Andria si è tenuta a battesimo la mostra allestita presso il Museo Diocesano con le foto che ricordano il doppio evento vissuto nelle scorse settimane. Da una parte il prodigio della Sacra Spina, dall'altro l'ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo. Ascoltiamo proprio il nuovo pastore di Andria, Monsignor Luigi Manzi, e il sindaco Nicola Giorgino. Eccellenza, nel 2157, quando gli andriesi vivranno il nuovo periodo... Nessuno di noi ci sarà. Ecco, cosa racconteranno queste immagini? Raccoteranno della fede di un popolo, racconteranno di un evento che un popolo ha vissuto con grande entusiasmo, con grande gioia, con grande fede, anzi di due eventi intrecciati indissolubilmente tra loro, che sono appunto il ripetersi del segno della spina e l'accoglienza di un nuovo pastore. Quando arriverà quella data, nel frattempo ci saranno ben altri pastori, non sarò solo io. Però, ecco, testimonieranno di un popolo che, accompagnato dai suoi pastori, ha vissuto questi eventi con fede e gioia, mescolati insieme, con una fede gioiosa. E questo mi pare che sia una bella testimonianza, che resta. E cosa resta invece nel suo cuore? Cosa resta nel mio cuore? Nel mio cuore resta la gratitudine al Buon Dio che mi ha dato di vivere questi eventi, che mi ha reso partecipe di questi momenti particolari, e che mi ha mandato a questa Chiesa, in questo momento particolare che questa Chiesa sta vivendo, perché questo per me rappresenta un segno che Dio mi ha dato, a raccogliere tutta questa eredità, tutta questa eredità di fede e di impegno pastorale, per portarla poi a crescere ancora in avanti. Un'Andrea che è frutto della sua tradizione, e che all'insegna della sua tradizione cerca di creare le condizioni, gli strumenti per lo sviluppo. Il momento che abbiamo vissuto il 25 marzo è stato un momento intenso, di profonda riflessione, perché è un evento storico. Il prodigio della Sacra Spina ha senz'altro rappresentato per l'intera comunità andriesia, non solo la comunità andriesia, un momento di profonda riflessione, anche per la condivisione di certi principi e di certi valori. E abbiamo voluto fortemente, insieme alla Diocesi, proprio in occasione della Fiera d'Aprile, che coincide con la resumazione delle ossa di San Riccardo, a cui appunto la Sacra Spina è legata, per quello che ha rappresentato in termini un po' di tradizione, soprattutto di custodia e conservazione di questo prodigio e di questa reliquia, credo che sia fondamentale appunto continuare su questa scia e su questa strada, ed è per questo che abbiamo voluto fortemente questa edizione della Fiera d'Aprile concentrata più sulla rievocazione storica, anche mettendo il centro storico al centro della comunità andriese.